Sono stato incaricato, come sapete, la settimana scorsa su volere, peraltro, dell'amico Sebastiano Fusa, che ricordo con una mestizia incommensurabile, un grande uomo di scienza e un grande amico. Quindi nella continuità dei suoi proponimenti io spero, con questo incarico, di dare ancora la possibilità alla sovrintendenza di Agrigento di aprirsi ancora di più, che è una cosa, peraltro, a lui molto cara. E quindi non solo Villa Genuardi, ma proprio su tutto il territorio dell'Agrigentino, di dare spazio, quindi non solo, come dire, agli aspetti amministrativi e autorizzativi della sovrintendenza di Agrigento, ma dare anche la possibilità alla stessa sovrintendenza di aprirsi verso lo spazio esterno con convegni, con seminari, nel senso voluto proprio da Sebastiano Fusa.